La sicurezza non può essere a carico dei lavoratori, quindi non si può imporre a un dipendente di dover sostenere i costi di un Green Pass, cioè dei tamponi per ottenere un Green Pass, se la persona non può essere vaccinata. Il governo ha deciso, dopo ristoranti, palestre, cinema e stadi, il Green Pass sarà obbligatorio anche a scuola e nelle università. La certificazione sarà necessaria per il personale scolastico. I docenti che non l'avranno, dopo cinque giorni, saranno sospesi dal servizio e dagli stipendi. Negli Atenei, inoltre, il Green Pass sarà obbligatorio anche per gli studenti. L'obiettivo è quello di garantire le lezioni in presenza, ma anche in questo settore le perplessità non sono di certo poche. Sicuramente potranno essere fatte molte più azioni per garantire la sicurezza nella scuola. Questo è un metodo per distrarre dalla reale attenzione. Innanzitutto qui non stiamo parlando di fruitori del servizio, non di chi va al ristorante, di chi va al bar, ma di chi ci lavora. Quindi di chi è impiegato all'interno della scuola, oltre che degli stessi studenti. I problemi della scuola non sono stati risolti. Il distanziamento, le classi pollaio, gli edifici sono quelli, i trasporti, capire così via. Quindi si pone l'attenzione su un unico problema, tenendo presente che in Abruzzo già l'86% del personale scolastico si è vaccinato. In Abruzzo si tornerà sui banchi di scuola il 13 settembre, cioè sette mesi dopo l'avvio della campagna vaccinale dedicata al personale scolastico. Considerando che il Green Pass ha valore per soli nove mesi dall'immunizzazione, con ogni probabilità nel giro di un paio di mesi ci si ritroverà a punto e a capo, con i lavoratori non più idonei al servizio. Altra questione è quella del trasporto pubblico, certificazione obbligatoria per i lunghi tragitti, ma non per le corse ordinarie. È assurdo far rispettare le regole dentro la scuola e poi prima di entrare a scuola e dopo che escono da scuola i ragazzi, sono abbandonati a se stessi. All'interno del sistema di trasporti nessuno controlla, non c'è una rete adatta, gli autobus vanno pieni, li vediamo tutti, li abbiamo visti durante il periodo scolastico pieni come al solito.